9 aurore e 12 notti E' un piccolo sussidio edito da messaggero per preparare e non solo per preparare, anche per vivere il tempo di Natale, 9 aurore e tutti pensano giustamente alla cosiddetta novena di Natale. Ma ci sono poi le 12 notti, dalla notte di Natale alla notte dell'Epifania. Attraverso la parola di Dio, quella che la liturgia offre ogni giorno, possiamo entrare, non solo preparare, né il mistero di Natale. Il verbo fatto carne, che fa della nostra umanità una stella radiosa del mattino che illumina non solo la nostra vita, ma anche quella dei nostri fratelli e sorelle, appunto, in umanità. Grazie